Bianca Azei ha rilasciato un'intervista al Quotidiano Nazionale in occasione della quale è tornata sull'intervento al cuore subito tre anni fa, poco dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Non ha mai parlato di quell'episodio quando era all'Isola dei Famosi e ancora oggi cerca di non tornarci sopra, se non quando assolutamente necessario. È lei stessa a chiarire i motivi di tale ritrosia, è successo tre anni e mezzo fa, sono stata operata d'urgenza. Ero al mio primo Sanremo. Un giorno mi sono sentita male, avevo una forte tachicardia e un'aritmia. Chi era con me mi diceva che era l'agitazione, l'ansia, lo stress, ma io sentivo che c'era qualcosa che non andava. Mi hanno portato in ospedale e operato d'urgenza, ho rischiato molto. Adesso ho una protesi nel cuore. Ho affrontato anche questo, ma non voglio parlarne troppo perché non sembri che voglia sollecitare un facile pietismo. Bianca ne approfitta inoltre per fare chiarezza a proposito del presunto flirt in corso con Jonathan Kashanian. I due hanno stretto un rapporto d'amicizia quando entrambi sono partiti per l'Isola dei Famosi, restando insieme in Honduras fino all'ultimo giorno. Jonathan ha fatto presente di avere stretto un legame profondo con la cantante, al quale preferisce non dare un nome. Bianca, però, non si dice dello stesso avviso, sono felicemente single. L'amore finito con Max Biaggi Le ultime battute sono per Max Biaggi, quell'ex fidanzato al quale è stata legata per anni, restandogli vicina anche nel momento più difficile della sua vita. Bianca ha superato quella storia della quale custodisce ricordi dolcissimi, ed è pronta ad andare avanti, magari perché non c'è più amore. Però bisogna avere sempre il coraggio di rispettarsi. Se c'è stato un legame forte bisogna avere rispetto. Ma ormai non è più un mio problema.